buongiorno buongiorno follower popolo di instagram buongiorno a tutti sono qua a portare giù giadina poco la porto a fare il bagnetto e poi ho due tre appuntamenti di lavoro e andrò a fare una chiacchierato con mai agent la mia agente sono in moscova sono a piedi e ho lasciato lo scooter davanti a se buona vicino al duomo quindi sono rimasto a piedi mi sono fatto accompagnare qua da me che ora che dovevano fare un lavoro ma si lasciami qua e sono a piedi sono rimasto a piedi taxi ragazzi in tutto ciò nei momenti di stallo pochi momenti di stallo indovinate che serie tv mi sto rivedendo tipo per la quarantissima volta ma che non mi stanca mai soprattutto i personaggi vediamo se indovinate